Capodanno 2007 a D'Arezzo, dallo squallore di Piazza Grande ci siamo trasferiti in Piazza della Libertà, la piazza del Comune dove si esibiscono le bende cittadine ed è con vero piacere che vi presentiamo i grandi volunteers. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Voglio un Tirse per Capodanno 2007 a D'Arezzo, un vero gruppo giovanile che veramente sta facendo ottimamente il suo lavoro e difatti anche nelle cover dimostra una cura abbastanza discreta. Voglio un Tirse! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.